ciao ciao e tu bevuto questo nuovo video ma che capelli di merda ma io non mi sono fatto lo shampoo ma che ca... vabbè ciao gioventù già ho salutato che parliamo avvento faccio post partita dopo 3 anni ma io vedo che negli ultimi video state vedendo pochino oh e non vedete i video nessuna visualizzazione della post partita della supercoppa europea ai barsport di premier league e liga francese oh ma mi dovete fare a cazzare incazzare veramente vabbè dai forse non va arrivare ai fit pure qua il problema delle fit di che parliamo ovviamente post partita dopo 3 giorni perchè esattamente 3 giorni fa si è giocato il terzo turno preliminare di coppa italia benevento udinese ovviamente l'udinese giocava in casa perchè le squadre più forti diciamo di serie a giocano in casa per esempio pure pordenone inter inter pordenone si giocò a san sicchio il benevento ha giocato alla dacia arena si chiama dacia arena a friuli a friuli comunque allo stadio dell'udinese e ha vinto 2 a 1 voi sapete come è fatta la coppa italia i preliminari di coppa italia mettono dando qualche chance anche a squadre di serie d di bassa categoria una squadra che ne so riesce a fare dei miracoli riesce a superare tutti e quattro i turni e passa ai coppa italia proprio quella vera dove giocano anche milan inter napoli romana e tutto brutto alla piazza eeeh quindi benamente ha vinto 2 a 1 ovviamente la prima partita il primo turno preliminare si giocano contro squadre facili poi il secondo turno contro squadre un po' più difficili un po' più meno facili il terzo turno ecco il benamento ha giocato con una squadra di serie e dovrà giocare il quarto turno con una con l'entella se non mi sbaglio comunque una squadra di serie b e se il benamento passa anche quel turno eeeh va in coppa italia passa al turno vero di coppa italia io devo essere sincero l'ho vista la partita perchè come tifo in serie a la mia squadra del cuore in napoli in premier league sapete tifo celsi in serie b tifo benevento perchè è la squadra di campania e mi sta molto molto simpatica penso sta simpatica a tutti il benevento eeeh quindi ha vinto 2 a 1 eeeh è passato in vantaggio l'udine l'ho vista la partita perchè era interessato passa in vantaggio l'udinese gran gol di mossa eeeh maciste maciste si chiama boh non lo so una cosa del genere comunque non si era sentito parlare quindi sicuramente un nuovo acquisto ho preso delle giovedere e queste cose qua se un nuovo acquisto si può essere interessante nel corso del campionato perchè ha fatto un gol sapete identico ciaccherini il gol che ha fatto due anni fa in coppa italia contro lo spezia quando giocavo ancora al napoli ma qua mi è arrivata la notifica di one football nel ranking galles e perui sono meglio dell'italia madonna santa che ci faccio a fare il video quindi che stavo dicendo il benevento che potrebbe fare allora voi vedrete quando farò la il pronostico della classifica anche della serie B e vedrete e vedrete e vedrete le il benevento farà molto molto bene perchè c'è una squadra ha fatto un mercato incredibile pure il benevento a gennaio quando stavo ancora in serie si vedeva proprio che la società voleva infatti ha preso sandra e tutto quello e quell'altro e se il benevento rimane con tutti questi qua diabate non ha giocato ma è stato venduto diabate non lo so ragazzi è stato venduto diabate io mi uccido no non lo so sono sincero ci hanno venduto diabate mi uccido madonna santa pure brignolo non ha giocato vabbè diamo un po' spazzicchione però non lo so se sono stati venduti ha segnato viola o coda boh viola mi sembra viola comunque un un errore di nicolas nuovo portiere preso dall'ellas verona ma un errore ma si vede proprio lì in esperienza pure l'ellas verona era diciamo il più scarso portiere d'Italia della serie A cioè ma il portiere dell'udinese nicolas rimpiazzano barretto e carnesis con nicolas che è una palla in avanti se tu uscivi eri in vantaggio e spazzavi la palla come aveva fatto il portiere del benemento che poi ha fatto un lancio a cazzo di cane e l'ha messa sui piedi di viola che poi ha fatto il gol però se quel portiere nicolas usciva quello la prendeva la palla stato coglione proprio e andava indietro invece di avanzare e cercare di ostacolare il tiro di viola ma non lo doveva manco far tirare la palla era solo va maronna nicolas proprio scarso e poi si butta dall'altro lato e viola lo lo umilia lo non non emilia lo umilia mettendolo sul primo pallo lo spiazzano secondo gol che ha segnato il secondo gol non mi ricordo che ha segnato comunque il benemento se ci mette con la cattiveria e si fa la stessa stagione che ha fatto da gennaio in poi in Serie A l'anno scorso potrebbe vincere la Serie B questo è tutto andrà al quarto turno preliminare poi l'altro ripio ok il Torino ha vinto 4 a 0 contro vabbè raga non mi ricordo ma se non c'ho il telefono e sto registrando il telefono come faccio vedere le notifiche ecco commentate iscrivete al canale mettete like iscrivete anche al mio cugino Hunter 1898 e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a gioventù 5 minuti di 6 minuti di video